salve a tutti i fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di video pensiero dio vi benedica sia lodato gesù cristo ave maria e sia fatta la sua santa e divina volontà di nostro signore gesù oggi è il 3 luglio 2019 e abbiamo messo come puntualizzazione questa cosa due donne in questo giorno sono state portate agli altari diciamo della del mondo fratelli e sorelle rachete carola e ursula von der leyen non mi cito tanto sulla ex porta anzi la ex direttrice si può dire del fondo monetario internazionale perché già sapete che la lagarde fa parte del giro della massoneria fratelli e sorelle la lagarde il fondo monetario internazionale è stato messo nella banca centrale europea ma cosa perché abbiamo messo queste due personaggi chiamiamoli così questi due personaggi perché le abbiamo messo la prima su carola rachete fratelli e sorelle io ve l'avevo detto nelle scorse puntate che non gli avrebbero torto un capello fratelli e sorelle ve l'avevo detto ma non perché non sono nessuno fratelli e sorelle ma perché qui c'è la massoneria di mezzo fratelli e sorelle ve l'ho detto ma voi pensate davvero che una persona come lei come carola rachete che ha fatto tutto quello che ha fatto quindi illecito del diritto internazionale e il del diritto nazionale andava a finire male fratelli e sorelle cioè andava in carcere chi pensava questo non aveva fatto i conti senza l'oste cari fratelli e sorelle chi pensava questo pecca un po di ingenuità cari fratelli e sorelle perché ve lo dico ma non perché io sono meglio degli altri sono più peccatore rispetto agli altri fratelli e sorelle ma proprio perché un fatto che la massoneria è molto forte potente nel mondo è potente nel mondo è ovvio anche qui in italia cari fratelli e sorelle ma nel mondo in generale è molto forte quindi quando se vi ricordate il papà della carola disse io sono tranquillo a mia figlia tanto se la caverà pure questa volta un genitore quando vede la figlia che ha dei problemi in generale un figlio una figlia non è così calma e tranquilla e sereno sicuramente un po di dubbi ce l'ha invece questo spavaldo come la figlia problemi non ce l'aveva perché fratelli e sorelle io ve l'ho detto se uno segue la logica del mondo ed è tranquillo perché spalleggiato da poteri forti come si suol dire fai qualsiasi danno che puoi fare fratelli e sorelle lo vuoi fare tranquillamente al di là della solidarietà nei confronti di chi soffre perché qui non c'entra niente chi soffre come i migranti qui c'entra l'illegalità della legge fratelli e sorelle cioè andare contro la legge e non gli sarebbe stato torto un capello fratelli e sorelle ma questo era scontato fratelli e sorelle come poi dall'articolo si legge del corriere della sera ad esempio dice questo se watch cosa dice il jeep di agrigento su caro la racchete nessun reato la capitana agito all'adempimento di un dovere sui salvataggi in mare nessun obbligo derivante dalle redettive ministeriali il fatto va valutato alla luce di ciò che lo precede quindi praticamente secondo ovviamente il jeep si deve accettare ovviamente le risoluzioni della della magistratura anche se non è normale l'evidenza ovviamente perché come dice gesù date a cesare quel che è di cesare date a dio quel che è di dio ovviamente però ripeto i reati contestati che sarebbe la violazione dell'articolo 1100 del codice dell'animazione non avrebbe obbedito agli ordini della guardia di finanza e l'articolo 337 del codice penale resistenza pubblico ufficiale per quanto riguarda il territorio italiano non il fatto di dice deve essere vagliata la luce di ciò che lo precede ossia il soccorso in mare e gli obblighi che ne derivano quindi sembrerebbe cari fratelli e sorelle che diciamo che lei non ha fatto nulla di male questo è il punto di vista fratelli e sorelle quindi praticamente agito in un adempimento di un dovere io vi dico questo adesso alla jeep la dottoressa vella su internet la stanno vessando di insulti e maledizioni e questo non va bene cari fratelli e sorelle perché dio questo non vuole la verità bisogna dirla ma un conto è dire la verità e un conto è insultare fratelli e sorelle anche a me qui mi hanno insultato ma io lascio il tempo che corre perché chi insulta non sa manco quello che dice fondamentalmente ve lo dico proprio papale papale sono quelle quattro decisioni sterili che lasciano il tempo che corrono però attenzione che insultare determinate persone poi si va ovviamente a querelle fratelli e sorelle per questo che vi dico invece bisogna pregare per queste persone proprio perché si converte così che portano odio e anche per per la dottoressa vella e per la carola perché si converte la nostro signore gesù cristo questa è la cosa importante che l'anima loro deve essere bisogna pregare per queste persone fratelli e sorelle il signore ci invita questo a fare e dire la verità comunque sia cioè questi hanno fatto un illecito l'illecito c'è stato fratelli e sorelle perché ripeto è andata contro determinate direttive fratelli e sorelle ha portato per 14 giorni questi migranti e poteva portarlo tranquillamente a tunisi al porto di tunisi che non non è un porto pericoloso e non l'avrebbero fatto entrare con me l'avrebbero fatta entrare in italia nemmeno l'avrebbe fatta entrare a malta però ripeto fratelli e sorelle la direttiva massonica era di andare fratelli e sorelle in italia era lì il vero punto non è tunisi o la malta era l'italia lei ha fatto quello che ha dovuto fare fratelli e sorelle ma non perché l'ha fatto lei ma perché qualcun altro gli ha detto da fare fratelli e sorelle in questo caso qualcun altro gli ha detto da fare questo e lei questo ha fatto fratelli e sorelle perché se no non si capirebbe il perché lei non è andata a tunisi non è andata a malta ma è andata direttamente in italia 14 giorni girovagando questo è stato il vero problema cari fratelli e sorelle e la direttiva che parla le leggi parlano chiari ma si parla si reagire a questo sul salvataggio di queste persone quindi vedete che non è proprio così palese la questione ma io ve l'avevo detto cari fratelli e sorelle che sarebbe stato una bolla di sapone sarebbe stata una farsa fratelli e sorelle perché era tutto un modo per dire a livello di poteri massonici internazionali chi comanda il mondo siamo noi questo è il punto e questa ragazza che viene vista come una paladina in realtà è semplicemente una possiamo dire una ragazza che si è fatta diciamo come un burattino ecco da parte dei poteri forti perché alla fine è questo il discorso ripeto una persona se ha veramente dei problemi con la legge non faresti mai un atto del genere a meno che non sei tutelato da qualcun altro non per quanto riguarda il soccorso dei migranti ma quando sei tutelato a livello giuridico fratelli e sorelle quindi se no ripeto se fossimo stato l'avessi fatto io sarei stato querelato sarei stato arrestato ma giustamente lo ha fatto lei ma non lei perché lei ma l'ha fatto lei per chi c'è dietro di lei tutto a posto fratelli e sorelle io ve l'avevo detto cari fratelli e sorelle al di là delle derisioni che mi hanno scritto ma non me ne frega niente fratelli e sorelle non è quello il punto la sostanza è quella che conta le derisioni sono sciocchezze quello che conta è la sostanza fratelli e sorelle ripeto fare del bene come ci ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo non è come fare codeste persone che si mettono loro al posto delle povere gente ci si mettono loro è loro che vogliono fare il salto di qualità e no Gesù l'ha detto quando si fa del bene la mano destra non deve sapere cosa fa la sinistra e invece qui non è così fratelli e sorelle l'altra figura invece è Ursula von der Leyen aristocratica e madre di sette figli la ministra della difesa tedesca e ora torna a Bruxelles dove è nata e dove suo padre fu uno dei giovani ponieri della comunità europea del carbone e dell'acciaio sicuramente una persona acculturata sicuramente non si mette in dubbio le sue competenze ovviamente però è strano che io vi posterò tutti i vari articoli ovviamente quello che abbiamo visto e incredibilmente lei ha partecipato sia l'anno scorso che quest'anno al gruppo Bildenberg gruppo di origine massonica fratelli e sorelle è inutile che ci giriamo intorno ripeto ha partecipato sia l'anno scorso che quest'anno al gruppo Bildenberg tanto è vero che in questi gruppi per poco quello che si può trapelare dalle notizie si parlava di una ristrutturazione europea fratelli e sorelle e guarda caso hanno messo questa signora del gruppo Bildenberg fratelli e sorelle credo che credo che questo è una cosa veramente brutta come situazione perché mettere una persona di questo gruppo massonico a capo diciamo di una cosa così importante come quella del della diciamo della Presidente della Commissione Europea non è poco fratelli e sorelle quindi io sinceramente vi invito innanzitutto a pregare perché guardate che il gruppo Bildenberg il gruppo massonico è molto forte e se per aver messo questo fratelli e sorelle come avete visto può mettere in ginocchio qualsiasi nazione e tanto è vero che l'anno scorso l'hanno fatto in Italia quest'anno l'hanno fatto in Svizzera però guardate che vedete come hanno piazzato chi di dovere fratelli e sorelle le due donne di oggi sono queste della giornata di oggi che hanno vinto fratelli e sorelle ma non hanno vinto loro in quanto loro ha vinto la massoneria fratelli e sorelle ha vinto la massoneria ha vinto la massoneria fratelli e sorelle quindi chi esulta per queste persone fratelli e sorelle esulta e difende la massoneria fratelli e sorelle questo è il vero punto di svolta questa è la sostanza fratelli e sorelle perché al di là di tutti gli ideali che uno può avere fratelli e sorelle l'unico che può salvare l'anima è solo Gesù Cristo questi signori o queste signore io non so come si salmetterà più in là in avanti fratelli e sorelle questo lo sa solo Dio speriamo che si convertano ma guardate che con il rafforzamento ancora di più del gruppo Bilderberg in Europa peserà ancora di più sulla nostra sicurezza in Europa cioè vedrete che le profezie come già detto si stanno attuando fratelli e sorelle inutile che ci giriamo intorno fratelli e sorelle quello si sta verificando quindi bisogna pregare tanto fratelli e sorelle vedete come abbiamo detto della Sea Watch e della Ursula quello che ha successo due donne gestite dalla massoneria e questi sono i fini fratelli e sorelle questo è il punto fondamentale cari fratelli e sorelle stiamo veramente alla fine dei tempi bene fratelli e sorelle Dio vi benedica sia lodato nostro Signore Gesù Cristo sia fatta la sua santa volontà e se Dio vuole ci risentiremo poi domani per un nuovo video pensiero Dio vi benedica sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria